Dopo il termine della diretta del grande fratello VIP, è successo veramente di tutto e di più. Durante la notte ci sono stati sfoghi, malumori, confessioni inaspettate e minchiate colossali ma quali non mancano mai. Quindi, se avete visto la puntata ma volete sapere cos'è successo dopo la puntata, ora vi racconto tutto. Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuova pillolona di Gossipone. L'ultima puntata del GFV è stata molto movimentata e dopo la diretta non sono mancati ovviamente malumori, insinuazioni, confessioni eccetera eccetera tra i concorrenti. Perché è finita la puntata, noi ce ne andiamo a lettino, loro no, restano zilli, belli svegli, hanno l'adrenalina a palla. Vorrei ben vedere, c'è stato il confronto tra Daniele Dal Moro e Edoardo Dona Maria, che però non riescono più a capirsi dopo la frattura di qualche mese fa a causa, indominate un po', un nome a caso, Antonella Fior de L'Eyes. Il caso ha voluto che oggi Daniele sia più vicino ad Antonella che a Edoardo, nonostante i due ragazzi fossero molto amici nei primi mesi. Nessuna novità per i fan degli Oriele, Daniele e Oriana dopo la puntata non si sono parlati. A bocca cucita tengo. Con confronto sono Edoardo e Oriana. Dona Maria si è pentito per la nomination, prima la nominata poi si è pentito. Lacrime di coccodrillo oserei dire io. Quando lui ha mostrato la carta di Oriana c'è stato un bel trambustro sui social, stava esplodendo Twitter. I fan dei Donnalisi erano naturalmente al settimo cielo perché supportano molto più Antonella che non sopporta Oriana rispetto a Edoardo. Beautiful, fatti più in là, che qui siamo a livelli molto più alti. Poi invece c'erano i fan degli spartani, adesso li chiamano così, no? Che hanno vissuto il tutto come un tradimento. Edoardo e Oriana infatti sono, o erano diciamo, molto amici. Si volevano bene, erano due bravi guaglioni. Lui l'ha anche difesa spesso negli scontri con Antonella e forse proprio per questo ieri ha dovuto nominarla. L'impressione generale di tutti, compreso il mio gatto, era che Dona Maria avesse nominato Oriana perché aveva litigato con Antonella. Se non l'avesse fatto probabilmente avrebbe rilitigato con la sua fidanzata. Tanto voglio dire, litigato, hai litigato, cosa ti cambia? Sì, coerete, ma poi, mamma mia, ma questa gente che fa le cose che vorrebbero gli altri, ma fai quello che ti va a te, vabbè, vabbè. Dopo la puntata Edo si è pentito di avere nominato Oriana e ha avuto un confronto con lei ed ecco le sue esatte parole. Edoardo si rivolge a Oriana. In te ho visto certe cose che non mi sono piaciute, che in altri che c'erano là non ho visto. Quindi, se mi levi le persone che voglio nominare, mi metti alle strette e mi dai 30 secondi per scegliere, eh, 30 secondi sono pochi per ragionare, l'unica motivazione, prosegue, che ho trovato è stata questa. Se avessi saputo che saresti andata in una nomination come questa, non ti avrei nominato. È tosta questa, spero solo che non ce l'hai con me. Cioè, se avessi saputo che tu saresti stata nominata, non ti avrei nominato. È come dire, se avessi saputo che l'acqua bagnava, non mi sarei rovesciato. Vabbè, ho detto una minchiata, lasciate perdere. Comunque, comunque, questa è la spiegazione un po' arrampicata sugli specchi di Edoardo. Oriana ovviamente ci è rimasta molto male per la nomination di Edo. E non solo, ho approfittato del confronto, anche il papà di presente che lui, Edo, cerca i suoi amici solo quando litiga con la finanzata. Perché quando con la finanzata è tutto a posto, quando invece litiga va dei suoi amici. Ed ecco la risposta precisa di Oriana. Ora, dovrei farvi la voce di Oriana, ma lasciamo perdere. Tu con me cambi molto l'atteggiamento quando c'è lei. Perché parlo così? Neanche mi caro. Con me sei un'altra persona, ma posso capire la tua posizione. Quindi non ti dico niente. Fortuna che non doveva dire niente. Però non puoi fare il super amico mio e poi smetterla di parlarmi. Quando stai male sei molto amico. Quando stai con Antonella mi fili. Ci sono rimasta molto male. Te lo ripeto, sai come sono fatta? Sai benissimo che non sto zitta se qualcosa non mi va. L'avevamo capito, cara Ori. Proprio perché ci tengo a te e non ho detto niente, ma mi sono sfogata con Luca. Non dico che sono delusa, ma ci sono rimasta male. Io ti voglio davvero bene. Ecco, ti voglio bene, ci sono rimasta male, non sono delusa. Vabbè, l'importante è che si capiscano loro. I due in effetti andavano molto d'accordo al punto che sui social parlavano di loro chiamandoli fratellino, sorellina, ci-ti-ti-ti, pu-pu-pu. Oh, mamma mia, l'amore, i sentimenti, le emozioni, eh? Sembra di essere un uomo e un uomo e un uomo. Naturalmente il confronto tra Oriana e Edo nella notte si è interrotto appena arrivata. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Beh, c'è stato anche lo sfogo di Luca Onestini contro Giulia Salemi, e ce l'ha con Giulia Salemi. Seppure un po' blando, come direbbe la nostra amica Sarina Altobello, il concorrente, Luca, ha espresso suo malcontento per i tweet scelti e mostrati in puntata, perché su di lui non ne viene mostrato mezzo positivo. Io una domandina me la farei, caro Lucchino. Comunque, ecco le sue parole. Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate, lo so che non parla così, fate finta. Se ci pensate, c'è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un'altra cosa. Eeeh. Su di me, ad esempio, fanno vedere cose negative o nulla. Nada de nada. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. Bella questa voce da vecchietto ubriaco, eh. In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex. E questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei. No, non li scegliono gli autori. Che ci fa lei, altrimenti? Sì, li sceglie lei. Vabbè. Luca, caro Luca, non sa che Giulia Salemi, Giulietta Salemi, che mi sta molto simpatica, tra le altre cose, sceglie i tweet in base al sentimento generale. E di sicuro passano sotto gli occhi degli autori. Cioè non è che adesso Giulia Salemi sta lì e decide lei cosa mandare durante la diretta. C'è dietro un pool, un team di autori che gli dicono fai così, fai cosà, non te la puoi prendere con Giulia. E poi soprattutto, ma siamo, cioè, se ci pensate, è un'accusa grave perché significa veicolare il sentiment, appunto, visto che parliamo di sentiment, in base ai propri cavoli. Tuttavia, Giulietta si fa spesso portavoce del pensiero del web, parlando in prima persona, senza leggere tweet. La sensation, la sensazione, è che lo faccia quando magari gli autori non approvano determinati tweet. Però questa è una sensazione, non possiamo avere la certezza. E poi è stata proprio lei, tempo fa, in un'intervista, a dire no, guardate che i tweet me li gira la regia, la redazione, non è che li scelgo io. Per esempio, ieri sera comunque ha consigliato a Daniele Dal Moro di seguire il Corazon con Oriana e di non ascoltare chi lo spinge a frenare. Erano pareri letti sui social e non mostrati con i tweet, ma lei lo ha letto lo stesso nella casa. Vabbè, vabbè, adesso facciamo un processo a Giulia Salemi perché si permette di dare un'opinione. Ah, tre mia, allora raga, io spero tanto veramente di non essere mai nel ruolo di opinionista in un reality perché sennò mi licenzierebbero subito. Comunque, la verità è che Onestini è un po' stato preso di mira, ma che ve lo dico a fallo, lo sapete meglio di me, per Nikita Pelizon, quindi ci sono davvero tanti, i tweet contro di lui, è vero, perché? Perché Nikita Pelizon è molto amata e ovviamente Luca ce l'ha con Nikita e chi ama Nikita odia Luca, ecco. Molti però sono esagerati, sproporzionati rispetto al contesto e anche spiacevoli. Nelle ultime settimane però qualcosa sta cambiando. E i consensi verso Luca, Nikita o non Nikita, stanno aumentando. E sì, sta cambiando il sentimento, il famoso sentimento. Anche Antonella Fiordelisi si era lamentata dei tweet, alla fine l'andazio è cambiato. Succederà lo stesso per Luca. Ma non è finita qui, amici miei, non è finita qui perché nella notte c'è stata una nuova confessione di Antonino Spiralbese. Antonino era un po' che non ti sentivo, mi mancavi. Su Oriana Marzoli ha parlato di un patto che lui avrebbe accettato quasi per galanteria, la stessa galanteria che ha mostrato dopo aver chiuso con Oriana. Quindi, dubbia. A prescindere da ciò, Antonino ha detto le seguenti parole. Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana, proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì, che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione. Sì, mi ha confessato che non le sarebbe mai andata giù questa roba, che un uomo le possa dire di no. Non sia mai che un uomo dica di no a Oriana Marzoli. Sapete cosa ho fatto io? Per quanto io le avessi già detto tutto, fossi stato chiaro, ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto, senti, io posso anche abbassarmi una cosa, lasciami tu, così. Cosa ti posso dire di più? Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico, quindi per questo le ho detto quella cosa. Praticamente, raga, il lasciami tu is the new, ti lascio perché ti amo troppo. Ora ragazzi, se mi state seguendo su TikTok, tra un po' il video finirà, perché purtroppo TikTok non si possono pubblicare i video più lunghi di 10 minuti, però se volete vedere il finale di questo video, seguitemi su YouTube, spero di averla detta giusta, e troverete il seguito. Intanto saluto TikTok e proseguiamo con YouTube. Dicevo, dicevo, quindi praticamente, praticamente, Antonino dice, eh vabbè, sai com'è, no? Siccome Oriana non gli piace essere rifiutata, soprattutto in diretta, in mondo televisivo, no? È una che ama sempre farsi dire sì, sì, oh ma quando sei bella, quando sei buona, quando sei gnocca. Allora, io dico, guarda, lasciami tu, così alla fine il tuo onore, il tuo mood da donna alfa, perché esiste anche la donna alfa, non solo il maschio alfa, eh. Quindi praticamente, Antonino, ma quanto sei patatino, mamma mia, tu sì che sai trattare bene le donne. Probabilmente tutto questo per motivare le sue dichiarazioni non tanto edificanti su Nicole Almurgia, non è bello dire di no a una donna, dice Antonino Spinalbese, dimenticando però di avere detto molto peggio su una donna da quando è entrato al grande fratello, ne ha sparate un gatto e una sporta, non so se si dice così, no, scusate, parlo sempre di gatto perché c'ho il gatto che ovviamente, e vabbè, che vi devo dire? A questo punto vi ho raccontato cosa è successo, diamo spazio al mio gatto pignonista. Ciao gatto, eh scusa ti vado a aspettare un po' perché è venuto un video un po' lungo ma perché c'era molta roba da raccontare e insomma, allora, allora, cosa ne pensi di tutta questa cosa qua? Non te ne può fregare nemmeno, interessante, però l'hai vista la diretta? Ah no, ah no, ti vuoi essere di tv? Ah giustamente, quindi dai, di qualcosa, gli amici di Gossip New vogliono sapere, ah Luca no, no, ok, 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 Antonino Spinalbese, ah, ma che ego che ha quest'uomo, beh, ho comunque un bravo guaglione, un bel ragazzo, c'è un po' l'ego sviluppato altamente, ma che ti devo dire, sarà colpa della frequentazione con Belen, non si può dire, non si può dire, no, no, vabbè, dai, tagliamo corda perché la sto già tirando troppo per le lunghe, vabbè, ne parliamo dopo, ciao ciao ciao, vabbè, vabbè, ragazzi, comunque, come avete capito, ha voluto solo esprimersi il mio gatto su Antonino Spinalbese, dicendo che praticamente ha un ego leggermente smisurato, però, raga, se lavori in quell'ambiente, se lavori, e poi è stato bellissimo quando hanno detto, io non voglio essere al grande fratello per essere stato l'ex di, e Signorini ha detto, in effetti, tu sei venuto al grande fratello, VIP, perché sei l'ex di, perché, raga, se non era l'ex di, chi di voi, siate onesti, chi di voi lo conosceva, nada de nada, comunque non mi voglio dilungare troppo, raga, questo è quello che è successo durante la notte, sta succedendo anche in queste ore, proprio in questi momenti, mentre io sto parlando con voi, e fatemi sapere qui stato nei commenti che cosa ne pensate, da che parte siete, che cosa pensate, se vi sta piacendo questo grande fratello, non ne potete proprio più, insomma, commentate con me tutto quello che volete commentare, perché adesso sapete, mettetela ai, registrate, cliccate, condividete, scampanellate, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti a Grazie a tutti